Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo nuovo video di The Last of Us 2 vi mostrerò dove si trova la combinazione e la cassaforte nel garage delle auto a Hillcrest. Una volta che avete raggiunto Hillcrest, quindi vi trovate praticamente in questa zona, dovete andare a recuperare prima la combinazione, quindi entrate nella boutique, questo locale qui, fate attenzione perché troverete uno shambler e un infetto ad attendervi, facilmente eliminabili. Una volta che siete entrati qui, sulla sinistra potete interagire con questa parete e troverete un documento con la password, la password o meglio la combinazione per la cassaforte che vedremo tra poco, è questa, ossia 30-82-65. Adesso vediamo dove si trova la cassaforte. Allora rieccomi, non vi nego che sono andato alla ricerca della cassaforte perché non riuscivo a trovarla. Prima di mostrarvi la cassaforte, voglio farvi una premessa. Quando trovate una password, la cassaforte è quasi vicina, è la stessa cosa ovviamente per il contrario. Quindi una volta che avete recuperato il codice, uscite fuori e tornate quindi di nuovo qui. Questa volta però entrate in questo negozio che è un barbiere. Sì, un barbiere. Tornate indietro qui, entrate in questo vicolo, troverete praticamente questo bidone davanti alla porta, spostatelo e preparatevi perché ce ne sono veramente tanti infetti da uccidere. Appena aprirete la porta 4-5 infetti vi aggrediranno, quindi preparatevi. Una volta fatto questo, ecco la cassaforte, quindi la combinazione come abbiamo visto prima è 30, 30, inserisci, 08, scusate 82, 82, 65 e la cassaforte è aperta. Grazie. Grazie.